19 milioni di euro entro il 2023, 15 chilometri di nuove linee in cavo interrato, la demolizione di 20 chilometri di vecchi elettrodotti e di ben 78 tralicci. Sono i termini dell'accordo tra il Comune di Firenze e Terna per una razionalizzazione della rete frutto del costante dialogo con istituzioni e territorio. Certamente credo che il vantaggio sia restituire solo, oltre che ovviamente, sicurezza e rafforzare la linea attraverso interventi che utilizzeranno le migliori tecnologie. Linee interrate dotate anche di fibra ottica nostra per poter monitorare le condizioni della linea stessa e agevolare interventi di manutenzione in tempi sempre più rapidi. Per l'area metropolitana di Firenze un ritorno non solo in termini estetici e paesaggistici ma anche funzionali. Una volta conclusi gli interventi, Terna renderà disponibili 11 chilometri di infrastrutture predisposte per la posa di fibra ottica. Silfi, la società del Comune di Firenze, gestirà direttamente questa fibra attraverso la quale far passare tutta una serie di dati che servono per migliorare i servizi tecnologici e digitare la città. Le telecamere di videosorveglianza, l'illuminazione intelligente, la segnaletica comunicativa, la sensoristica per il traffico. Sappiamo che ormai grazie alla fibra ottica le città si stanno digitalizzando e quindi questo sarà un ulteriore vantaggio per Firenze e Fiorentini. La valorizzazione dei territori si conferma ancora una volta al centro dell'impegno di Terna. Stiamo andando verso un mondo che avrà milioni di prosumer, produttori e quindi consumatori o piccoli generatori. Questo vuol dire che si trascinerà dietro la necessità di magliare sempre più la rete, di monitorare e rilevare le produzioni e pianificarne il comportamento. Quindi si va verso una logica di una maggiore digitalizzazione, di una gestione del byte più che del watt.